Eccoci qua signori ben ritrovati, allora oggi andiamo a vedere come si studia correttamente un pronostico, come un professionista entra a mercato, quali sono le ragioni che lo spingono ad entrare a mercato. Ovviamente non tratterò l'aspetto in questa sede dell'aspetto psicologico né il money management, l'argomento che ho già trattato in altri video. Quello che stai guardando in questo momento non è altro che il prodotto Professionale Football Pro 2.0, un prodotto dove io opero totalmente pre-match, si compone di una parte della mia operatività personale ed è un prodotto che ci permetterà in questo video di farti capire come un professionista analizza un pronostico e quali sono le motivazioni che lo spingono ad entrare a mercato. Innanzitutto bisogna dire che un professionista deve saper stabilire la quota reale, cioè deve saper individuare le corrette probabilità che quell'evento si verifichi. Deve essere in grado di evincere dalla quota offerta dal bookmaker al netto dell'agio cosa, quali sono le probabilità che quella quota esprime, e questo lo si può fare semplicemente dividendo quella quota per cento. E bisogna innanzitutto avere una competenza che riguarda sia la matematica di base ma anche lo studio, la perizia dei match, quindi bisogna avere delle esperienze acquisite sul campo. Per quanto riguarda questo match che state vedendo insieme, Svezia Under 21, Lussemburgo Harden 21, oltre la gestione dello stake del capitale che adesso a noi non interessa, quello che ci fa capire questa analisi che stiamo vedendo insieme e poi molte altre, in questo caso ho passato un non-goal a 1,63, una quota sicuramente di valore, una quota che non aveva un grandissimo margine, però è una quota che per quello che veniva offerta, per 1,63, era sicuramente una quota di valore. Però, conoscendo la Svezia Under 21 e ovviamente il suo avversario è Lussemburgo, Lussemburgo è veramente una modesta compagine, poi lo vedremo fra poco, la Svezia Under 21 sicuramente ha nelle sue, come vedete anche dall'analisi preliminare che era stata fatta, con annessa il pronostico, diciamo così, è una squadra che nella sua integrità, nella sua qualità però ha un punto debole ovviamente, che si individua proprio nella fase difensiva. Quindi quando voi dovete andare ad analizzare un pronostico semplicemente, dovete sfruttare quello che praticamente è i dati, i dati, le informazioni a vostra disposizione. Voi sapete benissimo che, prendiamo il match di oggi, voi sapete benissimo che quando siete davanti al mercato dovete analizzare i dati. Ovviamente non tutti hanno a disposizione, non tutti gli scommettitori, anzi la maggior parte non hanno a disposizione delle informazioni privilegiate, non hanno a disposizione degli informatori. Quindi il vantaggio, le vere vostre informazioni, il vantaggio che voi potrete prendervi sul mercato, quindi in termini di informazioni, sono quelle, sono le informazioni che riuscite ad evincere dai dati, dai numeri, di quel team, del suo avversario e via discorrendo. Quindi capite bene che, ovviamente, alle prime armi o comunque nei primi anni di betting, voi probabilmente non avrete la possibilità, come la maggior parte dei scommettitori, di avere degli informatori, di avere delle informazioni privilegiate. E nel caso in cui riusciate, sfruttando la vostra capacità, la vostra intelligenza o comunque delle conoscenze, quelle tipo di informazioni vanno sempre verificate. Possono essere verificate parallelamente da altri informatori o possono essere, appunto, verificate tramite una perizia particolare del match o tramite l'utilizzo dei dati del match stesso. Qui andiamo a vedere Svezia Under 21, Lussemburgo Under 21. È un'operazione, ovviamente, terminata 6-0. Il gol, tuttavia, è entrato con, sembra, molta facilità, ma quello che un risultato di 6-0 può nascondere non è certamente quello che poi andiamo a guardare con i dati in maniera specifica e in maniera dettagliata. Quindi mi spiego meglio. Se voi andate a vedere, ovviamente, gli ultimi incontri delle due compagini, a parte questa che è la partita effettiva, Svezia-Fillandia, Italia Under 21-Svezia, insomma, sono tutte operazioni di mercato dove la Svezia riesce ad imporsi, ad imporsi, soffrendo alcuni casi nella fase difensiva con compagini più forti, ma riuscendo a mantenere la propria porta inviolata. Ovviamente, per uno scommettitore alle prime armi, questo potrebbe sembrare un'analisi facile e semplice, come dicevo anche nel video scorso. In realtà, guardando semplicemente a questi ultimi incontri, qualcuno potrebbe pensare, Sì, ma che ci voleva? Abbiamo visto che comunque, nella buona parte dei casi, non prende gol, quindi il no-goal ci poteva stare. Ed è qui che vi sbagliate. Se pensate che sia facile fare questo tipo di analisi, state completamente fuori strada. E questo succede quando, muniti di una forte presunzione, voi vi mettete sul mercato, provate a emulare la mia operatività personale e poi prendete schiaffi. Allo stesso modo, vedremo dopo il discorso delle quote droppate. Comunque, qui andiamo a vedere invece il Lussemburgo, che come vedete riesce a segnare all'Irlanda, al Montenegro, va bene, in questo caso, insomma. Ma che comunque è una compagine che perde spesso e che perde spesso anche male. Quindi andiamo a vedere gli ultimi precedenti. Si sono sempre verificati dei no-goal e la quota 1,63 era una quota di valore. Era una quota di valore, una buona quota, ma è una quota che dietro a tutta un'analisi dei dati e che ovviamente permette ad un professionista di spingere al mercato conoscendo quella che è la quota reale. Quindi per andare a individuare correttamente un pronostico al mercato innanzitutto bisogna individuare la quota reale. Capire se c'è del valore operativo, andare ad osservare quelle che sono le informazioni sulle due compagni, sui due team, indipendentemente da questa partita in genere sto parlando. Quindi sulle due squadre, andare a cercare delle informazioni più o meno recenti, andare a studiare i dati, non affidarsi alle statistiche che possono essere totalmente fuorvianti, ingannevoli. E soprattutto in questa fase farete difficoltà ad affidarvi ancora di più alle statistiche. Perché? Perché saranno poche e saranno ancora più fuorvianti, ancora più ingannevoli. Proprio perché vedete che un professionista riesce ad operare ovviamente anche nel momento in cui non può attingere alle statistiche. Perché semplicemente questo? Perché delle statistiche non se ne fa nulla. Cioè le statistiche un professionista non le usa per analizzare il match. Non le guarda proprio. Quindi questo rende possibile analizzare queste operazioni di mercato e trarne del profitto. Perché se come tanti ciarlatani pensiamo che le statistiche siano utili e possano permetterci di tirar fuori un'analisi corretta, ovviamente allora in questa fase della stagione molti, molti sono costretti a fermarsi ragionando in questo modo. Ovviamente come ribadisco un professionista che usa le statistiche si serve dei dati, delle informazioni che vince dai dati, scusate, quindi dalle informazioni che vince dai dati e da tutta un'analisi sulla quota reale e sulla quota offerta dal mercato o dal bookmaker in questione. A proposito di quota, uno strumento importante per vedere le quote droppate è questo. Ed è uno strumento molto interessante. Voi basta che andate su BetExplorer e avete la possibilità di vedere quelle che sono le quote droppate. Per le quote che stanno ovviamente avendo un calo, come vedete in questa occasione, e avete la possibilità di vedere anche per altri sport, facciamo per esempio il tennis, o per tutti gli sport disponibili dal sito. Comunque, quello che dovete capire è che molto spesso la quota di chiusura è un'ulteriore prova, riprova, del fatto che la vostra analisi sia stata corretta o meno. Cosa voglio dire? Voglio dire che se una quota, se sul mercato voi prendete, come in questa occasione, prendiamo un no goal e con quel no goal voi semplicemente avete preso 1,63, vedete che quella quota chiude a 1,53, ovviamente siamo di fronte, come è questo il caso, siamo di fronte a una quota di valore. Siamo di fronte a una quota di valore. Ovviamente quello che dovete fare voi è andare a prendere la quota reale, ovviamente nei primi anni della vostra esperienza il betting lo farete in maniera discrezionale, quindi in base alle vostre esperienze, informazioni, dati e la vostra perizia di match, riuscirete a individuare la quota reale e a capire se c'è appunto un vantaggio sul mercato. Quindi nel momento in cui voi troverete una quota più alta rispetto alla quota reale che avete trovato voi, siete di fronte a una value bet. Quindi in questo caso se, faccio per dire, faccio per dire, qui ovviamente per noi la Spagna è quotata a 1,15, 1,18 e troviamo la quota di 1,28, questa per noi è una quota di valore. Faccio solo questo esempio, ovviamente è solo un esempio. Quindi quando pensiamo al mercato, quello che fa un professionista è semplicemente andare a confrontare la quota reale, la sua quota reale, con la quota offerta dalla piattaforma di scommesso o dal mercato, se è stato grande exchange. Quello che succede è che semplicemente se lì c'è il valore, ovviamente il professionista deciderà di poter entrare a mercato, confrontando ovviamente, qualora ne avesse a disposizione, le informazioni, delle informazioni privilegiate, per capire l'attendibilità delle informazioni stesse e per capire il momento in cui è corretto entrare a mercato, per capire se quel momento lì offre una buona quota, una buona quota al mercato. Quindi molto spesso chi cerca di emulare, di copiare la mia operatività, anche in buona fede come i clienti, come voi clienti, succede che pensa erroneamente di dover prendere sul mercato le quote droppate. Vi svelo un segreto, le quote droppate, essendo già droppate, molto spesso voi entrate in ritardo sul mercato, anche se siete in pre-match, entrate in ritardo sul mercato, perché quella quota probabilmente già è scesa dei tick sufficienti a far perdere del valore operativo, del vantaggio matematico. Quindi ha perso quei tick importanti e davanti a voi non c'è più una quota di valore, non c'è più una value bet, ma c'è una quota che probabilmente o è prezzata al suo valore reale oppure è sottoprezzata. Quindi già di partenza, se voi andate a prendere quell'operazione di mercato, voi andate a prendere uno svantaggio sul mercato invece che un vantaggio. Semplicemente quello che succede è che ovviamente le quote, come potete vedere bene, si muovono molto molto spesso. Prendiamo questo esempio. Come vedete, se voi entrate e poggiate il cursore sopra un bookmaker, vediamo una quota che abbia una storicità più lunga, vediamo qua, Pindacle, allora voi vedete semplicemente che questa quota ha aperto a 7,13, come vedete in fondo, e in questo momento attuale si trova a 7,53. Ovviamente anche in questo caso non è che se la quota è aperta a 7,13 e ora si trova a 7,53 voi siete di fronte a una quota di valore. Questo ovviamente è a vostra discrezione, ovviamente in base alla vostra analisi e alla quota di reale, a quota reale voi capite se siete di fronte a una valore o no. Andiamo a prendere lo storico del prodotto Football Pro 2.0 per darvi degli esempi concreti. Innanzitutto mostriamo i profitti fatti, il 13,79%, con uno yield superiore al 44%, quindi numeri che non trovate da nessuna parte, pre-match. Stiamo parlando di un prodotto pre-match. E come vedete, qui ci sono una tipologia enorme di operazioni di mercato, tutte estremamente professionali, spesso con l'utilizzo degli asian handicap, dei no goal e, come ho parlato già in un altro video, delle operazioni in half time, nel primo tempo. Quello che voi trovate in uno storico di questo tipo, è che vi fa capire che, a parte ovviamente i team, i team che siete soliti, quindi in corso della stagione consueta, in questo momento stiamo attraversando il periodo delle amichevoli nazionali, ormai lo stiamo superando, delle qualificazioni al mondiale e ovviamente siamo in dirittura d'arrivo con venerdì che ci saranno praticamente gli europei. Quindi come vedete, faccio per dire il caso di Aruba Canada, 2 asian handicap a meno 2, a 1,45. Questa è un'operazione passata con lo stake intero, lo possiamo andare a vedere qui, no? Perché non voglio spoilerare le operazioni che sono in essere, quindi lo andiamo a vedere direttamente utilizzando diretta.it. Intanto monitoriamo costantemente il mercato. Allora, andiamo su diretta.it e prendiamo Aruba Canada. Allora, innanzitutto bisogna precisare un'altra cosa. Bisogna dire che nel momento in cui un professionista conosce il mercato, sa anche cosa vuol dire andare ad operare su certi tipi di formazioni, ma proprio di team, di nazionali. In questo caso, ovviamente, qualificazione al mondiale, la prima fase, il Canada, nettamente superiore alla Aruba, termina 0 a 7, come vedete, un'operazione di mercato sontuosa, con il Canada che era nettamente favorito a 1,01. Anche qui, in questo caso, altra cosa che vi devo dire, indipendentemente dal fatto che le quote droppano, che è il discorso che abbiamo fatto prima e che quindi siamo di fronte a un ragionamento in cui voi dovete andare a anticipare il drop sul mercato. Quindi un professionista anticipa il crollo della quota, non entra al mercato seguendo il crollo della quota, sono due cose completamente diverse. Va ad anticipare. E come vi ho detto, fate attenzione perché spesso voi andate a prendere una quota sottoprezzata. Ma in questo caso, come vedete, o in questo caso, per farvi capire, 0 a 7, Canada. Voi potrete dire, ma sì, ma il Canada era estremamente favorito, quindi ci potevamo aspettare un risultato di questo tipo. Quindi qualcuno, erroneamente, potrebbe pensare che sia facile andare ad operare su questo tipo di operazione in cui, quando c'è una squadra estremamente favorita come il Canada, 1,01 addirittura, in questo caso ci debba essere per forza una goleata, o ci debba essere per forza un numero altissimo di reti. Quello che dovete capire è che non è assolutamente così. E che, soprattutto se vi servite delle statistiche, questi numeri possono assolutamente ingannarvi. Se noi andiamo a vedere i testa a testa, ovviamente, la ruba ovviamente è una compagine minore che spesso e solitamente perde con un buon numero di reti. Ma, come vedete, bisogna anche avere a cuore qual è la compagine che affronta la ruba? Perché l'antigua è una cosa, il Guayana è un'altra. Capite bene, il Jamaica è un'altra ancora. Però, se voi vi trovate davanti altri tipi di team, come in questo caso il Canada, ovviamente il livello tecnico è enorme. E andiamo a vedere, appunto, l'operazione di mercato perché vi devo far vedere anche un'altra cosa. Quindi noi cerchiamo qua sopra Canada. Vi diamo un attimo. Proprio sempre in virtù del fatto che non bisogna spoilerare. Spoilerare il risultato. E quindi voi andate a vedere che praticamente 2 a 6 handicap e meno 2 half time a 1,45. Probabile 0,3 e 0,4 per il Canada. E in questo caso voi andate a vedere che se buttate un occhio sul risultato della prima frazione, lo vediamo subito, sulla partita, è finita 3 a 0, 0,3. Perché mi aspettavo questo tipo di risultato? Perché c'erano tutta una serie di analisi. che ovviamente non posso rivelare qui, ma che praticamente mi permettevano di poter individuare innanzitutto un gol nel primo tempo. Quindi la ruba non avrebbe segnato nessuna rete. Ma in questo caso addirittura il risultato esatto 0,3 o 0,4. Perché mi aspettavo che il Canada comunque a un certo punto facesse una media di un gol ogni 10-11 minuti per il primo tempo. Infatti poi è riuscito nel secondo parziale e assegnare più reti rispetto al primo parziale come possiamo vedere dalla grafica qui di Drilletta.it. Drilletta.it comunque è uno strumento che vi permette di guardare anche al confronto delle quote e che vi regala l'opportunità ovviamente di andare a osservare i test a testa, i precedenti. sono tutte informazioni basilari però quello che ci interessa di più a noi è la possibilità di confrontare i bookmaker Rams con un maggior numero di tipologie di operazioni. Quindi c'è la possibilità della doppia chance, parziale finale, ovviamente il risultato esatto come vedete qui e il numero di gol e così via, via discorrendo. Quindi i pari dispari che lascia veramente il tempo che trova e l'overhand. Ovviamente, ovviamente questo è uno strumento marginale che coadiuvato dalla vostra analisi e dalla vostra abilità nella perizia dei match vi permette di guadagnare dal mercato. Un ultimo sguardo anche se abbiamo interessato ma abbiamo visto pochissime operazioni di mercato le sbiscereremo nei prossimi video e vi farò capire altre, vi darò altre chicche su queste operazioni. Ovviamente questo è il risultato di Football Pro. Questa è la qualità di un prodotto estremamente professionale che prevede 100 analisi di mercato come vedete siamo allo step 37 quindi 37 analisi di mercato con sostanzialmente due void che riguardano la notte legge a Lussemburgo e l'Australia da Pellicinese e che quindi permettono di dare un quadro completo di una yield che è superiore al 44% e di una quota media che è superiore al 1,78%. Signori, io vi saluto vi rinvio ai prossimi video e se volete contattarmi potete scrivermi qua sotto su Telegram trovate il link in descrizione oppure acquistate direttamente il prodotto e comunque avrete modo di guadagnare per questo europeo e per tutto il periodo estivo perché ovviamente saremo attivi per tutta l'estate. Io, signori, vi saluto vi rinvio ai prossimi video e vi invito a lasciare like al video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.